Grazie, buon pomeriggio a tutti, io invece ringrazio tutti quanti voi, ringrazio il presidente Salea per il centro studi di Machiavelli, ringrazio il mio amico Guglielmo Picchi che mi ha rivolto questo invito, ringrazio il dottore Capozzi di questa introduzione che aspettava a me nel saluto iniziale ma che ho tentato di perdere tempo per poter farvi portare il saluto dal ministro della cultura San Giuliano e quindi ho cercato diciamo di invertire o di proporre un'inversione. Il mio saluto sarà un saluto diciamo fuori dagli schemi nel senso che mi presento, sono presidente della commissione settima come ha già detto il presidente, cultura, sport, pubblica istruzione, università del Senato della Repubblica, sono la mia prima esperienza in questo mondo, sono la terza legislatura però parlamentare, quattro se si tratta di assemblea legislativa perché sono stato anche nella mia regione, la Puglia e vengo da una lunga dedizione da amministratore comunale che svolgo da l'età di 21 anni ma mi sono sempre occupato di altri settori, delle attività produttive e di tanti altri settori per un breve scorcio anche l'assessore nel mio comune lecce della pubblica istruzione. Mi sono approcciato con umiltà come giusto che sia in questo fantastico mondo che vedo un mondo diciamo bello, difficile, che nasce da un'esperienza politica che viene da 12 anni di un non governo, di un non presidente eletto dal popolo, quindi è il primo governo dopo 12 anni che ha un suo presidente, una coalizione e un centrodestra che governa questo Parlamento in tutti e due i rami. E la sfida è doppia perché arriviamo in un governo con una maggioranza, che possa piacere o no, ma è una maggioranza scelta dal popolo italiano e arriviamo all'uscita di un'emergenza sanitaria che tutti noi abbiamo vissuto nella scorsa legislatura con le difficoltà anche di una guerra che è intervenuta nella ulteriore emergenza, che ha fatto sì che il mondo della bellezza, la chiamo io più che della cultura, non possa essere fruito e fruibile da parte dei cittadini. Ci siamo affidati ai social, ci siamo affidati al racconto, le rievocazioni storiche le abbiamo vissute attraverso le televisioni. Ritornare alla vita e quindi in questo ruolo come primo spunto la carica è stata molto forte, molto forte perché la gente ti chiede di poter rimettere mano a delle cose che nella passata legislatura non sono potute essere compiute, perché l'emergenza che ci siamo lasciati alle spalle aveva continui decreti in Parlamento che tutto affidavano, meno che al problema dell'emergenza degli insegnanti, c'era un'emergenza scolastica di come riuscire a entrare nelle famiglie colpite tutte, sfido chiunque a non avere avuto un granello di piccolo graffietto sulla pelle di ogni famiglia da quell'emergenza, ma nessuno ipotizzava di poter programmare. Quindi riprendere in mano una situazione così importante, riuscire a compiere in questa commissione e quindi nel Parlamento il giorno del ricordo, le foibe, poter proporre una legge sui cammini, per cui ho ritardato qualche minuto perché era mia prima firma e quindi presiedevo, mi sembrava irriguardoso nei confronti della commissione non poter iniziare questo percorso dei cammini alla presenza del sottosegretario Vittorio Sgarbi segna un passo nuovo, un passo differente. Chiaramente la diffidenza non è stata poca e non è ancora poca perché il mondo della cultura, non lo so per quale ragione, molti la definiscono che possa essere rappresentata da uomini della sinistra. Presiede questa commissione un uomo dichiaratamente di centrodestra forse da molti visto ignorante, ma io ritengo che l'ignoranza è un buon campo per poter seminare tanta ricchezza da parte degli altri, perché sull'ignoranza si può lavorare, si può ascoltare, si può essere a servizio delle tante proposte. Ho iniziato tante audizioni nell'inizio di questo percorso e mi sono permesso di ascoltare tanti tipi di problemi pubblicamente, diciamo senza alcun problema e timore molto spesso li ho definiti delle nubi, quelle che si sciolgono, perché per un uomo che è impegnato nelle istituzioni e ha avuto l'esperienza di amministrare, si avverte la necessità di voler toccare qualcosa. Io questa mattina ho visto un giovanissimo importante scultore, Iago, che vuole nella vostra città, nella città in cui siamo oggi, nella capitale, poter iniziare un'opera di più di sei metri, da poter mettere a disposizione dei ragazzi, dei giovani, farla fruire, come sta facendo in altre parti d'Italia, come ha fatto in un segmento per la nostra Chiesa, per il nostro Vaticano e come vuole fare per tante altre parti d'Italia. Abbiamo iniziato questo percorso sui cammini, abbiamo riniziato a non doverci vergognare nel parlare di Dio, di patria, di famiglia, poter ipotizzare che le radici siano il punto di partenza per iniziare a parlare di cultura. Abbiamo chiesto nella prima legge di bilancio al Ministro San Giuliano e avevamo avuto, diciamo, devo dire, dal Ministro e dagli uffici grande apertura, una modernizzazione del modo di finanziamento delle rievocazioni storiche, quelle di cui parlava lei, delle tradizioni, perché denaro occorre per poter dare ai piccoli comuni, in ricordo di, diciamo, percorsi importanti che ricordino la storia, che la possano fare respirare ai nostri figli, a noi stessi, i costumi, la vita di un tempo che ci riporta alla realtà. Quindi abbiamo creato le condizioni per finanziare quello, per ritornare a finanziare i carnevali storici, perché ogni cosa ha qualche collegamento con il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Noi abbiamo bisogno di ritornare alla vita normale, nel contesto abbiamo bisogno, senz'altro, di riappoggiarsi a qualcosa di solido. quel solido, diciamo, sono gli interventi di confronto che oggi qui, ma che questo centro studi può generare per un'assemblea legislativa, nelle proposte, nelle visioni, mi piacerebbe ascoltare, non l'ho ancora fatto, non l'ho ancora visto, parlare di come si possono mettere a punto tutte le, quelle società che lavorano nella cultura, che stranamente sono delle micro società, spesso individuali, che non possono costituirsi in un'impresa culturale vera e propria, per mancanza di legislazione, ma anche per approssimazione degli stessi soggetti che di fatto la detengono. Quindi, diciamo, maggiore attenzione del legislatore verso di loro, ma maggiore anche visione da parte degli imprenditori, diciamo, nel mondo della cultura, verso quello che abbiamo intorno. Quindi noi intendiamo ripartire da questo con umiltà, con dedizione, con abnegazione verso quella che è la nostra storia, rispettando qualsiasi colore politico, qualsiasi tipo di cultura, potendone accogliere gli spunti migliori. Quindi oggi è un'opportunità di salutarvi, di stare un pochino qui con voi, ma di aprire una grande disponibilità della settima commissione al Senato, e sono convinto che farà anche così il mio collega Mollicone, che verrà dopo a salutarvi, e lo farà anche il Ministro San Giuliano, per iniziare un percorso insieme, unire le forze, darci una, diciamo, una identità su quello che realmente vogliamo in questi anni. Noi ci siamo, vi ringrazio, starò qui con voi un pochino per poi riprendere i miei lavori. Grazie.